Allora salotto d'autore al Cantuccio, ristorante famosissimo in tutta Roma che adesso non solo ora perché già voi siete diciamo collaudati in quanto a merito culturale però adesso sposa il salotto d'autore di Sara Iannone. Come nasce questa sinergia? Questo connubio con Sara Iannone nasce da un'idea di Antonio Minni, professore merito con cui facciamo degli incontri bisettimanali per diciamo dare un po' un senso alla cultura enogastronomica legata all'arte in cui si invitano dei relatori che vanno come dire a presentare un percorso enogastronomico legato all'arte e questa sera avremo il Corrado Calabro che presenterà insieme a Daniela delle poesie d'autore. È vero che voi siete prima di tutto un ristorante ma siete anche una bella galleria dove gli artisti possono far bella mostra dei loro prodotti però di fondo siete un ristorante dunque mi domando come la ristorazione e quindi il piatto d'autore sposa queste iniziative culturali? Cioè ci sono delle serate? Il connubio è quello di creare un'assonanza tra i colori della cultura e quelli che poi si portano in tavola nel piatto quindi avere una galleria d'arte che poi si ritrova in tavola e fare un percorso enogastronomico che ci riporti poi ai colori dell'artista che vengono poi esposti di volta in volta nella nostra galleria che è un po' un ristorante. Se dovessimo abbinare un piatto di questa sera ad una delle poesie di Corrado Calabro che hanno come sempre più spesso accade come protagonisti alcuni elementi come il mare lei che cosa direbbe? Nel menù di questa sera me ne basta uno, un pensiero volante? Potremmo mettere un risotto all'oceano in cui ci sono i colori dell'azzurro che vanno a fondersi con il cielo quindi c'è questo gioco di colori sull'azzurro che va a ricrearsi con quelle che so polivosi di Corrado Calabro. Il risultato questa sera mi pare che ci sia. Ci sarà, ci sarà, grazie.